La pace dei santi sia con voi. Il 23 dicembre siamo nell'ottavo giorno della Santa Novena di Natale e per i fedeli di Rito Ambrosiano nella sesta ferria prenatalizia. Il 23 dicembre la Chiesa di Rito Romano celebra la memoria di San Giovanni da Cheti, sacerdote. All'Ateneo da me tanto amato auguro la benedizione della Santissima Trinità e la perpetua protezione di Maria, sede della Sapienza, come anche il patrocinio fedele di San Giovanni da Cheti, suo professore più di 500 anni fa. Così, durante la visita a Cracovia del 9 giugno 1979, San Giovanni Paolo II ricordò il professore santo di quell'università. Nato a Cheti, cittadina polacca a sud ovest di Cracovia, nel 1390, Giovanni intraprese gli studi con risultati subito brillanti. Docente di filosofia 27 anni, a 34 fu ordinato sacerdote, continuando a insegnare per alcuni anni. Ricevuto l'incarico di parroco al Olkust, si fece ammirare come modello di pietà e carità verso il prossimo. Nel 1440 riprese la docenza a Cracovia, contribuendo all'educazione del principe Casimiro. Morì durante la celebrazione eucalistica della vigilia di Natale del 1473. Docente e amico degli ultimi, la gente prese subito a considerarlo santo, ricordando le sue lezioni di amore tra i malnutriti e i malati. È stato canonizzato da Papa Clemente XIII nel 1767. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giovanni ed auguri a quanti il 23 dicembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.